In esclusiva su Disney Plus, I Leoni di Sicilia. Qui a Palermo non siamo abituati a vedere una ragazza che... Che legge? La serie tratta dall'omonimo best-seller. Tu sei la persona più intelligente che conosco. Occupate un ruolo non facile, con grande dignità. Non posso mai fare quello che fa mio fratello. Per ora è così, ma cambierà. Io da te non mi faccio comandare più. Ci sono momenti in cui bisogna lottare per degli ideali, perché le cose cambino. E questo è il momento. I Leoni di Sicilia, dal 25 ottobre in esclusiva su Disney Plus. Grazie a tutti.